La Chiesa è il popolo che Dio raduna nel mondo intero. Essa esiste nelle comunità locali e si realizza come assemblea liturgica, soprattutto equaristica. Essa vive la parola di Dio e del corpo di Cristo, divenendo così essa corpo di Cristo. Un'esperienza di vita. In una parrocchia, questo episodio che sto per raccontare è abbastanza antiquato, però è molto significativo anche oggi. In una parrocchia dell'America Latina venne a mancare il parroco e il visco trova difficoltà a nominare un altro parroco. Tutti i sacerdoti si rifiutano, non perché fossero sfadigati, ma perché portavano delle motivazioni molte serie. È un luogo dove nessuno mette mai piedi in chiesa. Se possono suonare le campane dalla mattina alla sera, nessuno mette piedi in chiesa, ad eccezione del battesimo, prima comunione, matrimoni e funerali. Oltre di questo, nulla da fare. Per cui dice, è inutile nominare un altro parroco. Finalmente il visco trova un giorno dei sacerdoti, il quale accetta, è pieno di vita, va sul posto e mette un po' in rivoluzione la comunità dei fedeli. Ma parte non suonando le campane, parte organizzando partita a pallone, la gara delle biciclette, la partita delle carte alla briscola, alla scopa, le varie attività, partite di bocce, eccetera. La gente è contenta. Oh, questo è il padre che ci voleva. Proprio questo ci voleva. Però padre non si illuda. A noi piacciono queste cose che lei organizza e ne prendiamo gusto. Però tenga presente che noi entriamo in chiesa, non c'è proprio possibilità, perché la chiesa è morta. Questo fatto per il giovane sacerdote sentisse continuamente dire che sentire la chiesa è morta e la chiesa è morta dà un po' di fastidio. E sconcita una soluzione. Un bel giorno fa trovare il paese, vicino ai muri di tutte le strade, dei manifesti a lutto, dove si annunzia un funerale nella chiesa. E il manifesto dice così, il giorno tale dei tali, alle ore X, nella chiesa ci sarà il funerale per la chiesa morta. Chi vuole può partecipare. immaginate tutti quando ridono, scherzano, chi lo sa che cosa ha confinato questo benedetto prete. Il giorno del funerale la porta della chiesa è chiusa, la piazza è piena di gente, perché tutti sono curiosi di vedere lo spettacolo. Esce il prete e dice, mi fa piacere che siete venuti tutti. Bene, adesso in fila, chi vuole entra in chiesa, si avvicini al catafalco dove c'è esposta la barra scoperta e ognuno si avvicina e faccia lo secchio alla chiesa morta. Poi se vuoi rimanere in chiesa per il funerale, rimanere, altrimenti può andare via. Comincia la fila e si avvicinano alla barra e ognuno guarda in silenzio e poi va a sedersi al banco. E così la fila prosegue e tutti in silenzio e tutti si mettono a sedere. Che cosa aveva escogitato quel benedetto prete? Nella barra aveva messo un grande specchio per cui ognuno che si affacciava vedeva il suo volto e c'era una scritta «Non è morta la chiesa, sei morto tu nella chiesa». Il manifesto portò i suoi frutti. Allora, la chiesa siamo noi, noi possiamo morire. Questa espressione, la chiesa è morta, la chiesa è morta, ricorre oggi nelle assemblee e nelle schiamazzate della gioventù per le strade delle città. Ritorna questa espressione. La chiesa è morta. La chiesa siamo noi che la facciamo morire o la facciamo in risorse. Siamo noi, chiamati da Dio, a cumbere con la nostra responsabilità la missione di essere apostoli. Teniamo presente che nella chiesa siamo noi tanti vasi. Abbiamo vasi rotti e vasi buoni. Ciascuno di noi deve essere un vaso che crea armonia, gioia, serenità nella chiesa universale.